Ciao, oggi con Open Kitchen andiamo a creare un flan con funghi, la nostra erbetta millesimata alfa alfa, accompagnati da bufala campana e guanciale romano. A parte cuociamo i funghi. Ne frulliamo metà una volta cotti e uniamo le uova con sale, pepe ed erba medica. Ogliamo gli stampini, spargiamo in maniera uniforme il pangrattato e versiamo il composto. Inforniamo a 180 gradi per 10-12 minuti. Scottiamo il guanciale a listarelle fino a renderlo croccante. Per la salsa basta frullare la bufala. Il flan è pronto, spolveriamo con altra erba medica e buon appetito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.